Potrei pensare che i miei genitori non mi capiscano. Dopotutto, il mondo di oggi è totalmente diverso da quello che loro hanno conosciuto da giovani. Sì, ma è grazie a loro che io ho ricevuto la vita e molte altre cose belle. A volte esagero della loro bontà e mi piace essere servito da loro. Diventare adulto significa essere capace di staccarmi da un miei genitori. Essere in grado di dire loro non solo che è un'opinione diversa, ma anche le cose per cui li ringrazio. Se sento che mi hanno ferito in qualche modo, il mio compito principale è di provare a perdonarli. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.